Sono mesi che non vedo prepuzio Vabbè che non è che sono usciti questi film orribili di cui parlare, però non vorrei che stesse tramando qualcosa Ciao Victor Oh mio Dio no Dove sei? Dove sei? Sono dentro di te Cosa? Mi sembrava che quella fase l'avessimo superata E invece? Come hai fatto? Esci subito brutto Non credo che lo farò Nooo No 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 Non scherzare Noi siamo prepuzio Oh mio Dio è arrivato quel momento No 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 Allora prima di iniziare con la recensione di oggi Vi ricordo che in descrizione vi sono trovati il link Vi rimane dalla home page del sito di Pampling Noi ci sono un sacco prodotti da tema nerd Come le magliette con tante stampe veramente carine che vengono costantemente aggiornate come questa Su Skeletor che a me piace tanto E poi trovate gli zaini, le felpe, le scarpe Io ho quelle di Pacman e le indosso fieramente E se volete avere questi prodotti potete aggiungere al vostro acquisto un paio di calze a vostra scelta Anche quelle sono tutte carinissime Se utilizzate il codice sconto VILASZLO le calze non le pagate Ma se utilizzate il codice VILASZLO con la promozione 4x40 che vi permette di avere 4 magliette a 40 euro Quindi 10 euro a maglietta Non solo se aggiungete il paio di calze e quelle non le pagate Ma non pagate neanche le spese di spedizione Quindi magari vi interessa se volete fare un regalo Oppure se acquistate per voi O se acquistate con amici per poi dividervi le magliette Potrebbe essere interessante Però adesso parliamo del film di oggi Perché sono andato a vedere un film del 2021 per la regia di Andy Serkis Ed è Venom La Furia di Carnage Allora a me il primo film su Venom aveva fatto schifo oltre ogni immaginazione Per me è tuttora uno dei film più brutti che abbia visto negli ultimi anni Però questo Venom La Furia di Carnage non sono andato a vederlo con pregiudizio Ho pensato ok il primo è brutto Non è detto che debba essere anche il secondo Anche perché Andy Serkis continuava a dire che gli avevano lasciato carta bianca Che il film sarebbe stato diverso Poi però sono usciti i trailer e io vedevo la solita comicità Che mi faceva schifo Perché trasformare Venom in una macchietta per me è imperdonabile Però non importa Ho comunque pensato Non si giudica prima di aver visto Magari davvero il film non è così brutto come potrebbe sembrare Sono andato a vederlo ed effettivamente devo ammettere che non è brutto Perché se fosse brutto sarebbe comunque un progresso Questo film è la bava che potrebbe uscire dal buco nel culo di qualcosa di brutto È un meteorite di sterco duro e secco che colpisce la terra Risocchiandola in un buco nero di guano e disperazione Io piuttosto che di guardarmi questo film mi farei frustare sull'uretra Da Andy Serkis in persona Andy che cazzo hai fatto la tua carriera porco due Ma andiamo con ordine perché altrimenti io qui stavolta Crollo proprio morto E mi ritrovano domani mattina con la videocamera accesa E sui giornali leggeresti il titolo Recensore rincoglionito muore a causa dei suoi nervi Quindi con tutta la calma del mondo Parliamo di questo film e per la prima volta Per un film così atteso Non dividerò la recensione in parte spoiler e parte non spoiler Per il semplice motivo che stavolta voglio essere libero Di rilasciare la mia di furia Perché quella di Carnage non è un cazzo in confronto a quello che sento qui Perché veramente io non riesco a capire come si faccia a pensare a una roba del genere Quindi sarà tutta spoilerosa Per un motivo molto semplice Non c'è bisogno di fare una recensione tutta pettinata Per far capire cosa non va nel film Perché tanto ve lo dirò anche nella parte spoiler Vi basti sapere che è qualcosa di abominevole Quindi per una volta voglio fare una recensione di sfogo Tutta spoiler Quindi se non avete visto Venom la furia di Carnage Non proseguite con la visione di questo video Lo so qualcuno potrebbe rimanere contrariato Ma stavolta io davvero non ce la faccio Ho bisogno di sfogarmi E quindi partiamo con l'analisi Di questa apocalisse culturale Che è Venom la furia di Carnage Allora Andy Serkis è un bravo attore Per chi non lo sapesse L'interprete di Gollum L'interprete di King Kong di Peter Jackson Con la performance capture L'interprete di Cesare Nei film della belle pietra delle scimmie Bravissimo anche lì Un attore veramente completo E anche Ulysses Klaw in Black Panther E anche in Age of Ultron Insomma È uno che a mio parere Ha dimostrato nel corso degli anni Di essere veramente bravo Poi Qualche anno fa ha diretto Mowgli Che è andato direttamente su Netflix Non era un capolavoro Non era neanche una porcheria Era un film che si lasciava assolutamente guardare Quindi Quando è stato detto Che non sarebbe stato Ruben Fletcher Come per il primo film A dirigere questo Venom La furia di Carnage Io ho pensato Vuoi vedere che magari Hanno aggiustato il tiro Ma allo stesso tempo C'era una vocina che mi diceva Ma Victor Ma questi hanno incassato 855 milioni Con quella merda del primo film Visto che Ne avevano spesi 100 Ed era stato un successo Secondo te Visto che quella formula Aveva funzionato La dovrebbero cambiare per il secondo No io non mi aspettavo Che cambiassero formula Mi aspettavo che Magari eh Ma la butto lì Potessero Potessero Aver capito Che forse Era meglio dare Un minimo di dignità A Venom Perché Va bene Voler rendere il tutto divertente Ma porca puttana In questo film Venom Sembra il gabibbo Cioè a un certo punto Mi aspettavo che dicesse Splash Cioè veramente Con questa voce Tutta così E fa battute di continuo Cioè io vi giuro Ogni volta che vedevo Venom In scena Pensavo Ma porca puttana Possibile che Venom Sia diventato La linea comica Non è la linea comica E non deve far ridere Perché non c'è un cazzo Da ridere Dr. Ziegler Confirmed Comunque Io Non riesco a Capacitarmi Di come Siano riusciti A fare peggio Del primo film Perché questo Venom La foria di Carnage A mio modesto parere È ancora più brutto Del film di Fleischer Che ce ne vuole Come se ci fosse Un impegno particolare Per renderlo Ancora più brutto Di quell'abominio Del film precedente Il problema del film È più o meno lo stesso Che aveva il suo predecessore Cioè È sbagliato Sotto tutti i punti di vista Non ha Una vera coerenza narrativa I personaggi dicono E fanno cose Che non stanno Né in cielo Né in terra La sceneggiatura Non sa bene Cosa raccontare Né come raccontarlo E i dialoghi Sono allucinanti Ad esempio C'è un dialogo Che è letteralmente così Eddie Brock Sono il Detective Mulligan E tu non mi piaci Le cose belle Bisogna guadagnartele Tralasciando questa zeppola Volutamente accentuata La parte di Adriano Giannini Che doppia Eddie Brock Il dialogo È veramente così Cioè Un personaggio Dice una cosa E il personaggio A cui sta parlando Risponde Con qualcosa Che non ha assolutamente Senso Qualcosa che non c'entra Con il discorso E io Francamente Non comprendo Perché l'abbiano scritto In questo modo Tra l'altro La sceneggiatrice del film È la stessa Di 50 sfumature di nero Quindi io non capisco Perché questa persona Continua a lavorare Cioè 50 sfumature di nero È un film di merda Perché è tratto da un libro di merda Ok Ma se vedi che questa Fa una sceneggiatura del genere Anche su Venom Ma perché continuare A darle film Da sceneggiare Beh la risposta è molto semplice Questo film Nel giro di poco tempo Ha guadagnato Già quasi 200 milioni Di dollari Ed è uscito Nel resto del mondo Perché è uscito solo In Stati d'America In Messico In Brasile In Argentina Solo ieri Ieri ha iniziato a uscire In vari paesi Tra cui anche La maggior parte Dei paesi europei Quindi sicuramente Un film che potrebbe arrivare Anche a 300 milioni Ne hanno spesi 110 Questo potrebbe essere Uno dei pochi film Che nonostante la pandemia Rientra ampiamente Nei costi Per forza Che poi continuano a farli Per forza Che stanno già parlando Di un eventuale sequel Che Andy Serkis Sarebbe contentissimo Di dirigere Grazie al cazzo Vorrei ben vedere E la cosa che mi fa impazzire In senso negativo È che la gente in sala La sala era piena Rideva Rideva L'unica cosa buona Di questo film È che sta riempiendo Le sale italiane Che adesso sono al 100% Da capienza A momenti non trovavamo posti Abbiamo dovuto prenotare Giorni prima Quindi di questo Sono contento Chi se ne frega Della qualità del film L'importante è che la gente Vada a vederlo Però al di là di ciò È veramente un abominio Perché Nella scena finale Del primo film Vedevamo Eddie Brock Che andava in galera Da Cletus Kasady A cui per fortuna Hanno tolto il parruccone Preso da Wish Che era una cosa orribile Cletus Kasady Che è interpretato La Woody Harrelson Che è un serial killer Che vuole parlare Con Eddie Brock E quello che mi chiedo è Ma perché Non hanno fatto Come tutti pensavano Cioè Cletus Kasady In qualche modo Ha scoperto Che Eddie Brock Ha un simbionte E vuole averne uno Anche lui No Cletus Kasady Chiama Eddie Brock Perché vuole essere Suo amico Il serial killer E il coglione Fateci una serie Fateci una serie Perché sì Eddie Brock In questo film È un coglione Allucinante Io non capisco Perché il povero Tom Hardy Si presti A questo scempio Tra l'altro Sembra che per l'occasione Andy Serkis Abbiamo detto Questo a Tom Hardy Tom Hardy È Gollum Che ti parla Devi fare una cosa Per me Ma mi dica Signor Gollum Mi dica Devi recitare Di merda Dimenticati Tutto quello Che hai imparato Da scuola di recitazione Devi recitare Di merda Se posso permettermi A cazzo di cane Davvero Hardy qui Recita malissimo Peraltro Ha dovuto recitare Molto spesso da solo Perché ci sono Dei momenti In cui Litiga con Venom Che ovviamente Non è che fosse in scena Perché alla fine La voce di Venom È sempre la sua Modificata Digitalmente Per cui È questo il fatto Ha recitato Sopra le righe In maniera Eccessiva Ma Harrelson È stato anche peggio Harrelson è un attore Straordinario Ma qui proprio Sembra che non ci abbia Neanche provato Lui volerà solo Che gli dessero i soldi E via Cioè questa è la sensazione Che mi ha comunicato Ma all'inizio del film Tom Hardy Eddie Brock Va da Cletus Kasady Su insistenza Del Detective Mulligan Un importantissimo Personaggio Che per tutto il film Non fa che stare Tra le palle E ha anche un epilogo Che mi ha fatto pensare Ok Ma di Mulligan Parleremo dopo Perché se non conoscete Mulligan Vi assicuro che vi stupirete Vi stupirete Per quanto abbiano scazzato Con lui Ma ci arriviamo Quindi Eddie Brock va Per appunto In carcere E che cosa succede? Succede che Cletus Kasady Ha detto Devi pubblicare questa frase Che ti dico Questa poesia Se lo fai Io ti racconterò tutto Le persone che ho ucciso Come lo uccise Dove lo seppellite Bene Eddie Brock Andandosene dal carcere Vede La cella Dove c'era Dove stava prima Cletus Kasady Con tutti questi segni Questi disegni incisi Venom Che è intelligente A casa Gli fa capire Che su quella parete Lui aveva Disegnato Il luogo Dove erano seppellite Alcune sue vittime Quindi Eddie Brock Senza Dover per forza Pubblicare Ha pubblicato la poesia Però senza Dover dare troppo a cosa Che Cletus Kasady Fa scoprire i cadaveri E quindi Cletus Kasady Viene condannato a morte Anche questa cosa qui È contorta Ma scusate Non era già condannato a morte Non sapevano Cioè Sì il governatore Aveva prorogato La sentenza Però non è Cioè Lo sapevano che aveva ammazzato Le persone Però vabbè Ok E quindi Alla fine Il povero Il povero Perché questo è il fatto Ti fanno pensare Il povero Cletus Kasady È un serial killer Omicidio che ha ammazzato Un sacco di persone Perché dovrei empatizzare Con questo personaggio Spiegatemi Perché devo empatizzare Con uno che è un serial killer Tra l'altro La scena iniziale Ti fa vedere Lui in riformatorio Con questa donna Questa ragazza Che è Shriek Che è un personaggio Che c'è nei fumetti Ma Kasady e lei Non hanno un rapporto così Cioè qui sono proprio Innamorati Sono Proprio dei piccioncini Mentre invece Hanno un rapporto Più simile a quello Tra Joker e Harley Quinn Anche perché Carnage Nei fumetti È completamente diverso Da quello che vediamo qua Perché molti hanno detto Dai però io spero in Carnage Magari Carnage è forse Il problema più grande Del film Ma andiamo con ordine Adesso ci arriviamo Cosa succede? Succede che Lei viene rapita Rapita dai governativi È messa in questa struttura Dove studiano persone Con superpoteri Sostanzialmente E Cletus Kasady Ha come grande sogno Riuscire a tornare da lei Va bene Viene condannato a morte Nel frattempo Eddie e Venom Continuano a litigare È un film sul rapporto di coppia Il problema è che Il film dura un'ora e mezza Circa Un'ora e 34 minuti E Non ha La connotazione Che dovrebbe avere un film Ha un inizio Non ha una vera parte centrale Perché I due Litigano E Venom si stacca da Eddie Ma succede tutto Nel giro di poco Per caso E Ora Che I due Si devono riunire Cletus Kasady È già scappato È già diventato Carnage E li aspetta già Per il combattimento finale Non ha la parte centrale Non c'è un solo momento In cui i personaggi Siano realmente in difficoltà Non c'è nessun momento Di presa di coscienza I personaggi Non hanno Approfondimento psicologico Ma zero Ma zero ragazzi Zero Io vi dico Tanti mi hanno detto Vabbè sono gusti A me questo film è piaciuto Ok ragazzi C'è un momento Per dire Sono gusti E un momento Per accorgersi Di quando la cosa fa schifo L'unico gusto qua È Se ti piace o meno Berti una tazza di merda Perché Non c'è niente di male Se voi la apprezzate Ma state apprezzando Obiettivamente la merda Non perché lo dico io Ma perché se prendiamo Ogni singolo aspetto Di questa pellicola Non c'è niente che si salva Regia La regia è una delle cose Peggiori Che si potesse vedere È per questo che mi dispiace Per Andy Serkis Perché Andy Serkis Non sembrava male Come regia Come regista Adesso Ha messo in scena Un film Terrificante In cui la CGI È pezzotta E quindi tornano Al vecchio trucco Anni 90 Del abbiamo pochi soldi Per gli effetti Facciamo tutto buio e scuro Così si nota di meno E la macchina era presa Movi la cazzo dei cane Movi la cazzo dei cane Cioè Non si capisce niente Nei combattimenti Perché Perché la CGI è orrenda Perché devono camuffare La mancanza di effetti credibili Molti dicono Ma il concept design Di Carnegie è bello Sì ho capito Ma cosa cazzo me le frega Il concept design Sempre quando lo metti in scena Fa schifo Cioè Dai cazzo Ma comunque Cletus Kasady Chiede ancora Di vedere Eddie Brock Eddie Brock Va ancora in carcere Di nuovo E iniziano a litigare Perché Cletus Kasady Ha detto Tu hai pubblicato Quella storia E adesso mi condanno alla morte Sei una persona meschina Morerai solo Come Anche tuo padre Faceva bene a odiarti Per il fatto che Venendo al mondo Hai ucciso tua madre Ma Cletus Kasady Che cazzo ne sa Eddie Brock L'ha detto da qualche parte Cioè Come fai Il punto è questo Ti mostrano un rapporto Tra Cletus Kasady E Eddie Brock Che sembra quello Di due vecchi amici Che hanno scazzato Ma quando mai Si sono confidati Cioè Una cosa del genere Non me la puoi fare Off screen Se lui sa Queste cose Su Eddie Brock Io voglio sapere Il perché Perché È a causa di questo Che Cletus Kasady Diventa Carnage Tu mi devi spiegare Perché Perché dico così Perché Eddie Brock Si incazza Ma si incazza Ancora di più Venom Che esce Mette Cletus Kasady Al muro Il quale Si libera E fa la cosa Più normale Del mondo Morde fortissimo Eddie Brock E io ho sperato Con tutte le Con ogni fibra Del mio essere Che Cletus Kasady Non diventasse Carnage Come sembrava Dal trailer Cioè lui Che morde Eddie Brock Parte del suo sangue Che è quello Di un simbionte Gli entra in bocca Si lega al sangue Di Cletus Kasady E lo fa diventare Carnage Cioè lui ha il simbionte Carnage No? Perché Se così fosse Non sarebbe una spiegazione sensata Nei fumetti Carnage è figlio di Venom Lo depone come una sorta di uovo Cioè Venom lo crea Poi ci sono versioni in cui Eddie Brock Scappava dalla prigione Sfondando le sbarre Una delle sbarre Lo tagliava E usciva Un pezzo del simbionte Che entrava Dentro Cletus Kasady Però In un fumetto E' una cosa che ancora posso capire E' stupido In un film Vedere questo Che morde Eddie Brock E per una goccia Di sangue nero Diventa Carnage Perché è esattamente Così che va Nel momento in cui Lo stanno per uccidere Il veleno D'iniezione letale Viene respinto Dal simbionte Che Cioè Da Carnage Che trasforma Cletus Kasady Del quale fa una strage Tra l'altro Bellissimo come In un film su Carnage L'unica goccia di sangue Che si vede E' quella che si lega Effettivamente Al sangue E' quella che si lega Al simbionte Per Cletus Kasady Non c'è una goccia di sangue Non c'è una scena Vagamente violenta Tutte le scene Violente Vengono Censurate Con la macchina Presa che si sposta E inquadra magari L'ombra Della persona Che muore E' qualcosa Di mostruoso Mostruoso Ragazzi Veramente E' come sorbirsi Una zuppa di merda Bella bollente Io quando vedevo Questa scena Dicevo Cazzo Questo è Carnage Questo squarta le persone E' un personaggio Violentissimo Ma qua è il tenero gigione Ma porca puttana Ma poi il rapporto Tra Cletus Kasady E E E Carnage Ma mostramelo Mostramelo cazzo No Cletus Kasady Non si fa domande Al simbionte Bella lì Dai Usciamo e ammazziamo Le persone Escono da lì E c'è E c'è Cletus Kasady Che si mette a cantare La canzoncina Sul fatto che Il direttore del carcere Che ha appena mangiato Sa di pollo Ma chiedi Dialoga con Carnage Dialoga con lui No Vanno a liberare Shriek La quale è chiusa In questo istituto Con la professoressa cattiva Che Parlando con Matioski C'è venuto in mente Che potrebbe essere La professoressa Kafka Ricordate il dottor Kafka Di Spider-Man Di The Amazing Spider-Man 2 Ah io adesso te studio Io sono Stereotipo Di tedesco nazista Ecco quello Era un uomo Nel film Di The Amazing Spider-Man 2 Ma in realtà Ne fumetti una donna Probabilmente era lei Ma non lo sapevo mai Perché si vede per due minuti E poi muore Quindi Shriek Anche lì Shriek viene liberata E Non è che dice Ma cos'è successo Cletus Ma che cos'hai No Dice Che figato Tentacle Tentacle Sex incoming Cioè non lo so Veramente Io ero allibito Ma Ma Shriek È la deficiente Più grande del film Perché lei ha come Potere Il fatto di fare Queste urla Che sfondano tutto Timpani Oggetti E quant'altro Quando arriva la polizia Per distruggere Carnage e lei Che stanno fuggendo Lei urla Per mandare via Gli elicotteri E ovviamente Carnage Inizia a vibrare E Cletus Dice guarda che gli fai male Smettila Perché è sensibile Al suono Benissimo Più avanti Durante l'emozionante Sono ironico Combattimento Tra Carnage E Venom Che cosa succede Che Shriek Ancora urla E allora Veramente io penso Ma sei stupida Cioè ti ha detto Che tu Se urli Testa di cazzo Gli fai male Ma che cazzo urli C'è la stupirsi Che Carnage Voglia ammazzarla No Non c'è la stupirsi Non c'è Questa è l'unica cosa Sensata del film Con Cletus Che dice No Non farle male Oh te l'ha detto Questo è un cazzo Di alieno Assassino Che si è legato Sia anche il psicopatico Te l'ha detto una volta Guarda che se urli Mi fai male Alla seconda Ti scamazzo Urli ancora Allora sei scema Allora sei Dillo Sei deficiente E vabbè Comunque sia E' difficile Descrivere Come avvengono le cose Perché letteralmente Avviene tutto in un secondo Cioè Il film inizia con Eddie Brock Che va da Dal Cletus Cassidy Scoprono Scoprono per appunto Il tutto Lui poi va Ancora da Cassidy Che diventa Carnage Da lì Eddie e Venom litigano Con Venom che scappa Inizia a possedere Gente a caso Che muore Perché non riesce A legarsi a lui Come si lega a Eddie Non sono compatibili Nel frattempo Venom va a questa festa La famosa scena Di lui Con le collanine Fosforescenti Che Andy Serkis Ha detto Che era il coming out Di Venom Anche qua Ma perché bisogna Sempre buttarla Sulla Sulla questione LGBTQA Cioè non mi sembrava Il tipo di film Per cui farlo Peraltro Quella è una festa Che non c'entra Con il contesto LGBTQA È una festa Che è stata realizzata Semplicemente Perché Dovevano mettere La rapper Lil Sims Nel film Cioè Serkis ha letto Quello doveva essere Un carnevale di dannati Poi però Tom Hardy Ha conosciuto Questa rapper Lil Sims E hanno deciso Di metterla nel film Di piuttosto Aveva Sonia aveva un contatto Con lei Mi hanno fatto fare Sta scena Non ne vado fiero Perché è logico Venom va lì Tutti Poi tutti Wow Che bel costume Dai Come fai a pensare Che è un costume Lo vedi Che non è un costume Cristo santo È lui che si mette A fare il discorso Dicendo Basta con la crudeltà Verso gli alieni Ognuno deve essere Se stesso Boh Io ero lì che Pensavo Ma perché Cioè Non lo so E siccome La persona che ha preso Sta morendo Cosa fa Va dalla tizia Asiatica Che gli vende La cioccolata Perché lui ha bisogno Di una sostanza Che si trova Nei cervelli E nella cioccolata Vabbè E la possiede Finché non arriva Anne La ex di Eddie Che decide Di aiutarlo A A A farsi Insomma A fare pace con Venom Venom Fa pace con Eddie E subito Lo scontro finale Cioè Non c'è la parte centrale Non c'è Nel momento in cui Cratus Cassa Di scappa Eddie si 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 riunisce A Venom E andiamo subito Verso lo scontro finale Peraltro Il poliziotto Il detective Mulligan Il grande Detective Mulligan Chi cazzo è E perché ha questa importanza Chi conosce i fumetti Sa che Mulligan Non è altro che Toxin Un altro Simbionte Qui ha un trascorso Con Shriek Perché Shriek Aveva cercato di scappare Quando la stavano portando Nell'istituto Ma Il poliziotto Che aveva spaccato i timpani Sopravvive E le spara Le spara in un occhio E lei viene catturata E quindi Lei ha perso un occhio Lei vuole vendicarsi Quel detective Era Mulligan A un certo punto Sembra che gli stia cavando un occhio Poi lei viene uccisa E alla fine Tutti si dimenticano di Mulligan Cioè sembra che nessuno Si ricordi lui Che è sopra Che sembra morto Che apre gli occhi Improvviso ha gli occhi azzurri Come per dire Che ha preso il potere Di Shriek Ma lui è Toxin Quindi Devo supporre Che gli è venuto Il simbionte dentro È diventato un simbionte Anche lui E perché Cioè come funziona Questa cosa dei simbionti Cioè Carnage È Incazzato con Venome Lo odia E lo chiama padre Dobbiamo uccidere mio padre Uno Come cazzo Si riproducono i simbionti Fatemi capire Come si riproducono Questi cazzo Di simbionti Io ho bisogno di saperlo Dovete dirmelo Come cazzo Si riproducono Basta che un pezzettino Di Venome Si leghi al sangue Di un altro E diventa un simbionte Allora ragazzi Scusatemi Ma potenzialmente È pericolosissimo Stare vicino A Verdi Brock È pericoloso Perché basta Che cazzo ne so Che sta tagliando La carne per una grigliata Mi schizzo un po' Di sangue addosso Perché si taglia E divento Bubulus Il simbionte meraviglioso Ma che cazzo Mi dovete spiegare Perché Ma mi spiegate Per quale motivo Succede questa cosa Ragazzi Non ha senso Non ha il minimo senso Ma fammi non lo so Che Boh Venome è incazzato E una parte di lui Si stacca Per andare deliberatamente Con Con Cletus Kasady Come se La rabbia di Venom Si manifestasse In quel modo Come se La sua rabbia Si stacca La rabbia che ha per Eddie Si stacca da lui Perché vuole trovare Un portatore più grintoso E va da Cletus Kasady Ed è per questo Che lo odia Perché è una parte È per questo che Carnage Creandosi così Odierebbe Venom Perché è quella parte Di Venom Che non sopportava più Il suo umiliarsi Con Eddie Avrebbe avuto più senso L'avrei preferito Ma non che questo Morde Eddie Brock E diventa Carnage E non si fa neanche le domande Poi Come lo sconfiggono Si accorge Venom Che Mentre Carnage Sta uccidendo Shriek Kasady Cerca di staccarsi Da lui Ora La frase che dice Guarda Eddie Non sono simbiotici Lo sono stati Fino un minuto fa Non è che non sono simbiotici Perché allora Non siete simbiotici Neanche voi due Stando lì Peraltro Loro sta Cassady E Carnage Stanno litigando Per un motivo serio Carnage Sta per ammazzare L'amata Di Cletus Kasady Allora scusami Se loro non sono simbiotici Non lo siete neanche voi Avete litigato E voi non si è staccato Perché non andate D'accordo sulle puttanate Che sembrate Casa Vianello In salsa Venom Ma dai porca puttana Cioè Il punto è Uno potrebbe dire Ma perché te ne frega Di questi dettagli Perché non sono dettagli Il fatto che Cletus Kasady Sappia che Sappia il passato Di Eddie Brock Non è un dettaglio Se non me lo spieghi Perché è il motivo Per cui lui diventa Carnage Il fatto che La cosa del non sono simbiotici Non ha senso Non è un dettaglio Perché è il motivo Per cui li sconfiggono Porca puttana Non ha senso Ma poi perché Cletus Kasady È uno psicopatico assassino Ed è molto sopra le righe È sempre sopra le righe Ma perché devi far L'hanno reso un tizio Che cita poesie Poi c'è una scena In cui lui manda Una lettera Prima di essere condannato a morte È la lettera Con cui chiede Rivederlo Prima di morire A Eddie E in questa lettera Quando Eddie legge Questa lettera Si vede Cletus Kasady Che parla Come se la stesse leggendo E alle sue spalle Con un green screen Raccapricciante Vediamo Un'animazione Che ci mostra Quello che sta raccontando Quindi il passato Del piccolo Cletus Kasady Che ha ucciso Mamma Papà E nonna E alla fine scopriamo Che lui li ha uccisi Perché abusavano di lui Quindi alla fine Il senso di tutto è Hai visto Lui li ha uccisi Però Loro L'hanno abusato di lui Lui C'è come a dire Hai capito Comprendilo Poverino Sì Ma Ha ammazzato Un sacco di altra gente Cioè è diventato Un serial killer Posso dire Cioè Puoi dire Umanamente ti dispiace Per quello che ha subito Un'infanzia Però poi ha ammazzato Altre persone Non puoi cercare Di farmi empatizzare Con Cletus Kasady Ma io non voglio Neanche provarci Empatizzare col mostro Di San Francisco Ma vi sembra normale Dai ma non ha senso Sta cosa Però vabbè L'animazione Fatta in stile sketch Sul tovagliolo Dell'autogrill Con la penna Bic Non è male Non è male Perché effettivamente Ci sta È simpatica Come idea Peccato che sia L'unica goccia d'acqua In un oceano Di merda Ragazzi Cioè è un film Che veramente Ha dei momenti Che sono allucinanti Tutta la scena finale Con Venom Che urla Protettore letale Manco fosse Mazinga Ok Oppure Carnage Che mangia la testa Del prete E dice Potenziamento Io lì che dicevo Buu Ma che cazzo Sto guardando Cioè io per dirvi Che ho sofferto di meno Con Fantastic Four Di Josh Trank Ho sofferto di meno Con il primo Vernon Di Fleischer Ragazzi Cioè per dire una cosa del genere Io non vedevo un film Così brutto Così stupido Così fatto male A livello mainstream Da veramente tanto tempo Regia pessima La fotografia Non parliamone Che scurisce tutto Proprio per quel motivo Che dicevo prima Per cercare di nascondere La mancanza di budget Perché 110 milioni Per un film del genere Non sono poi tanto Tutto questo Si ripercuote Sugli effetti pezzotti Sulla regia Che non è granché Le musiche Le musiche Sono l'unica cosa Che ancora ancora Possono funzionare Un minimo Ma proprio un minimo E quello che mi dispiace Più sono le interpretazioni Ma tra l'altro I personaggi Anne Che boh Secondo me Hanno cercato Di toglierla di mezzo Di chiudere quella storia Perché non vogliono più Viene Tra l'altro Lei è Michelle Williams Una delle attrici Che odio di più Nel mondo Perché a pelle Mi sta sui coglioni Non so cosa farci Purtroppo E c'è il suo compagno Il suo futuro marito Che a un certo punto Quando stanno combattendo La cattedrale Arriva all'improvviso E butta il fuoco Su Carnage Con la famosa battuta Suono e fuoco Ma senza suono Ma questo Quando cazzo è arrivato Cioè questo qua Quando è arrivato La cattedrale Quando è che è salito sopra Come dove Quando Perché è andato lì Cioè Sai perfettamente Che ci sono dei mostri Ma perché cazzo vai lì E poi il suo intervento Non serve a un benemato cazzo Tra l'altro Come tolgono di mezzo Shriek Cioè Il grande piano di Venom È prendere Shriek Buttala di sotto Sperando che lei urli La campana si stacca E la distrugge La uccide La schiaccia E alla fine C'è Venom Che stacca la testa Anche se non si vede del tutto A Cletus Kasady Perché così Può avere la sua dose di cervello E di sostanze Che servono a lui Per vivere E cosa succede Alla fine Che Eddie Brock E Venom Se ne vanno Ai Caraibi No Con loro che guardano Il tramonto Sulla spiaggia E Venom che dice Che fondamentalmente Ama Eddie Ora È un alieno Non penso che si Possa parlare di Bisessualità Eterosessualità Omosessualità È un alieno Quindi Io penso Penso che intenda Che lo ama Nel senso che alla fine Hanno un rapporto simbiotico Ci sta Però È il fatto di Fare quella scena E dire Venom supporta La comunità LGBTQ No Semplicemente C'è capito Questo voler mettere Un sottotesto Che secondo me Non c'entra niente Nel film Non è un amore romantico Veramente Non capisco È come anche La scena della festa È il coming out Di Venom Sì coming out Non è un coming out Nel senso che Coming out C'è come rivelazione Che si rivela al mondo Sì ho capito Ma tutti pensano Che ha un costume Non si è rivelato Veramente Sono tutti convinti Che sia una persona Che indossa un costume Che coming out è Nessuno ha capito Che è un alieno Quindi boh Non sto capendo Ma quello che mi turba È la mancanza Di approfondimento psicologico Cletus Kasady Non ha un solo momento Di rivelazione Non ha un momento Di crescita Lo trovi in un modo E muore in un modo Eddie capisce Che vuole stare con Venom Ma non c'è Un vero momento Di presa di coscienza Cioè lui Ha bisogno di Venom Per distruggere Carnage Ma non è che sta bene Con Venom E poi c'è la famosa Scena post credit Di cui ho parlato In una video Qualche giorno fa Che vede Eddie E per l'appunto Venom Che sono sul letto Di questa stanza Che stanno guardando Una sopopera Con Venom Che parla Dell'alveare La coscienza collettiva Dei simbionti Che racchiude 80 miliardi di storia Di tutti gli universi Quindi già si parla Di multiverso Ed è un riferimento A Knull Che è una creatura Che è stata recentemente Creata per i fumetti Marvel Di questa sorta di divinità Dei simbionti E mentre Venom Vuole far vedere Eddie Un frammento Della conoscenza Dei simbionti C'è una luce accecante Che cambia la stanza Solo in un altro luogo Una stanza Che non è la stessa E in televisione Non c'è più la sopopera Ma è il servizio Di J. Jonah Jameson Di Far From Home Di Spider In cui si vede Peter Parker Di Tom Holland Senza maschera Ma vestito da Spider-Man Con Venom Eddie che diventa Venom Venom che lecca il televisore Dicendo Quel tipetto In sostanza Ora Venom Ha abbandonato Quell'universo Ed è arrivato Nell'universo Dell'MCU Nell'universo Dello Spider-Man Di Tom Holland A caso La cosa potrebbe anche Essere interessante Ma secondo me Si creerà una confusione Terribile Ma dove lo mettono In No Way Home Oppure faranno Dei film Sony Ambientati nell'MCU Con Venom Cioè È interessante Come cosa È interessante L'idea che ti citi Look Null Ma allo stesso tempo Io ci rimango abbastanza Perché dico Boh Ma cosa cazzo Sto vedendo Cioè Non ce la faccio Cioè veramente Per me è terribile Tutto quello Che si vede In questo cazzo di film È un ripirante Cioè La scena post credit Può anche essere bella Però il punto è che Quando l'ho vista Perché me l'avevano spoilerata Senza aver visto il film Poteva anche Sembrava interessante Ma francamente Dopo aver visto questo film Non ho alcun interesse A vedere Venom Nell'MCU Anzi Anzi Se non cambiano registro Se il personaggio Deve rimanere Questo coglione Che parla con la voce Del Gabibbo Ciao Besugi Io non ho interesse A vedere Venom Nell'MCU Non me ne frega niente Questa è una mossa Che mi sa Di canna del gas Di non sappiamo più Che cazzo inventarci Facciamo crossover a caso Cioè Ma poi anche Il cambio di universo Così Cioè pensavo Che avesse un senso No questo è un cambiato universo Non si è capito perché Lo spiegheranno in No Way Home Lo spiegheranno mai Ma poi scusami Eddie Non si mette un minimo a Non lo so Stupirsi per quello che sta succedendo Un dire Oddio 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 Cioè dici solo Ma cos'è successo Cosa hai fatto Boh Cioè questo è un cambiato universo Non vedrà più En Non vedrà più Chi ama Cioè non lo so Veramente Ma poi torneranno indietro Cosa fanno E questa è la cosa che mi chiedo Cosa cazzo faranno Esattamente Non lo so ragazzi Io sono Abbastanza allibito Sono abbastanza allibito Perché non mi aspettavo Una roba del genere Non mi aspettavo un film Con una sceneggiatura Tanto stupida Perché la storia è Eddie Brock Si fa mordere da Cretus Cassidy Che diventa Carnage Eddie litiga con Venom Poi i due si ricongiungono E combattono Contro Contro Carnage Tra l'altro La scena di Carnage Che fa il vortice in prigione Ma che cazzo è Sembra una roba Di una serie animata Di serie C E poi soprattutto Ripeto Dammi Perché ci mostrano così tanto Il rapporto tra Eddie e Venom E non possono fare un parallelismo Con il rapporto tra Carnage e Cretus Non sarebbe stato più interessante Vedere il rapporto tra i due Pensateci un attimo Il rapporto tra i due Poteva essere qualcosa di Interessante Far vedere un po' Eddie che si comporta in un modo E Cretus che si comporta in un altro Dove Venom si incazza con Eddie Perché è uno sfigato Carnage invece dovrebbe trovarsi bene Con Cretus Perché sono tutte e due dei fogli omicidi Perché tanto Carnage è un simbionte Che ucciderebbe qualunque cosa si muove Tanto Cretus è un psicopatico Che ucciderebbe qualunque cosa si muove Dovrebbero essere Estremamente Compatibili Invece no Guarda non sono simbiotici Ragazzi a cazzo Carnage sta ammazzando La moglie di Eddie Di Cretus Cosa cazzo devono essere simbiotici In quel momento non lo sono Ma allora non lo erano neanche Eddie E non fino a poco fa Di che cazzo parliamo E vabbè Ma anche Boh non lo so Ma poi i dialoghi Ragazzi i dialoghi sono una delle cose più stupide Io non so Se sia un motivo di adattamento Se sia perché Boh magari Non hanno Non lo so Magari O è l'adattamento Oppure semplicemente i dialoghi Fan cacare Sta di fatto che non hanno senso di esistere Ma non hanno nessun tipo di senso di esistere È un film rotto È un film stupido È un film che non aveva il minimo senso di esistere Non puoi fare un film del genere E la cosa che più mi fa male È il successo che sta avendo Cioè Per forza continueranno a fare questa merda Finché la gente lo guarda Per l'amore di Dio Io non è che posso dire alla gente Oh Ti è piaciuto questa merda Fai schifo Ma assolutamente no Non mi permetterei mai Però Però Stavolta veramente Devo permettermi di dire che Se ti piace Stai un po' apprezzando la merda Che non è un problema Va bene Però non venitemi a dire Beh son gusti Sì Si chiama coprofagia Questa è coprofagia cinematografica Scusatemi Perché obiettivamente Non perché lo dico io Ma perché basta Avere un minimo un'idea Di quali sono le regole grammaticali Che un film dovrebbe seguire Questo film è Monnezza Non ha senso nelle interpretazioni Non ha senso nella regia Non ha senso nella sceneggiatura Non ha senso nei dialoghi Non ha senso in niente La CGI fa schifo Non ha senso nulla Non funziona niente Quindi È merda Se ti piace ci sta Però Non venimmo a dire Son gusti Son gusti ma È proprio il gusto dell'orrido Poi ti può piacere E non è che succede niente Però figlioli Lei è veramente brrat Lei è veramente brrat È proprio una porcheria E mi dispiace Dovelo dire ma è così Quindi insomma Io Tra l'altro Mentre sto parlando Ho anche un po' di febbre Quindi sono svarionatissimo Probabilmente finita questa recensione Dovrò andare a dormire Perché mi ha sfiancato Perché già stavo male Ma dovevo sfogarmi Avevo bisogno di Sfogarmi Perché davvero Io sono andato a vedere film con La Svet La Shu Vidrip Il signor Giacomo e Matioschi Tutti eravamo Distrutti ragazzi Distrutti Cioè c'era Matioschi Che si poteva Sparava Sparava proprio le onde energetiche Dalle mani Eravamo allibiti Cioè io non mi capacito Di come nel 2021 Si può ancora fare un film del genere Questo film Sarebbe stato una merda Anche negli anni 90 Ma il punto Che è il tipo di merda Che mi sarei aspettato Di vedere negli anni 90 Ok Perché qualcuno può dire È peggio di Ghost Rider Ghost Rider non aveva questo budget Se Ghost Rider Avesse avuto questo budget Ancora ancora Ma siccome Ghost Rider Non aveva questo tipo di budget Ci stava Anche Daredevil Ci sta che fossero dei filmetti Del cazzo Questo c'è 110 milioni di budget Ed è veramente Una porcheria abominevole ragazzi Ma abominevole Cioè io Vedo Venom La furia di Carnage E penso La furia è la mia La furia è la mia Non è di Carnage Sono io che mi incazzo qua Ma non ha senso Poi veramente Io ripeto Shriek Personaggio più stupido Mai visto in un film Degli ultimi tempi Cioè veramente ragazzi Una roba che dici Ma questa che cazzo Ma questa per cazzo Ma poi cosa cazzo ti urli Ma cosa urli Cioè l'hai già visto una volta Che questo si stacca Se urli Smettila Non ha veramente Non ha veramente senso Mi dispiace ragazzi Ma per me È uno dei film peggiori Visti negli ultimi dieci anni Soprattutto si considerano il budget Perché sì Magari ho visto di peggio Ma erano filmetti indie Del cazzo Per essere un film Che sta incassando così tanto E che sta andando nelle sale Con una distribuzione ampia Per me è un abominio totale Mi dispiace Proprio mi vergogno io Per Andy Serkis Mi vergogno io Per Tom Hardy Che è anche produttore del film Tra l'altro Mi vergogno per tutti Mi vergogno per il povero Woody Har Che di solito è un bravo attore C'è da vergognarsi C'è proprio Questo film è cringe Nel senso letterale del termine Cringe Se andate sulla Treccani È indicato come Imbarazzo vicario Cioè Qualcosa che ti imbarazza Che se non è Se l'imbarazzo non proviene Non è qualcosa che hai fatto tu È un imbarazzo Per qualcun altro Ecco Io sono imbarazzato Per tutti quelli Che hanno Lavorato a questo film Io sono In profondo Imbarazzo Perché è come farsi Una Una seduta termale In una piscina Ma al posto del fango La merda Ok Con i fumi che ti rincoglioni I fumi di merda Che ti rincoglioniscono Col metano che ti addormenta È terribile È terribile Semplicemente terribile Non si salva niente Non c'è un solo fotogramma Una singola scena Un singolo dialogo Che non mi abbia fatto Salire il nervoso È Brutto Forte Brutto Oltre ogni cazzo Di immaginazione Quindi Questo è quello che pensavo Circa Venom La furia di Carnage Per me Una Delle cose Più brutte Che si potessero trovare Al cinema Negli ultimi tempi Mi dispiace infinitamente Ma non posso Assolutamente Passare sopra Certe cose Cioè Io una roba del genere Non la vedevo da tanto tempo E non pensavo Che si potessero raggiungere Tali livelli E qua non c'entra il pregiudizio Cioè io sono andato a vedere Senza pregiudizio Ed è peggio del primo Non lo so Vabbè Comunque Noi ci vediamo Al prossimo vlog Fate sapere qui sotto Cosa ne pensate Perché sono Molto curioso Vi do un abbraccione gigantesco Noi ci vediamo Alla prossima E grazie mille Per aver seguito Ciao a tutti ragazzi Ma quindi Quindi Ci sei? Ci sei o no? Oh dannazione Sono sempre qui Oh mio dio Come faccio Liberamente Dimmi come faccio Non puoi No preferivo Quando mi possedevi Cosa devo fare Oh mio dio Dio Ho Ciao a tutti Ciao a tutti